Una terribile videocassetta uccide le persone dopo sette giorni. Forze alieni minacciano il mondo. E chi è questa Cindy Campbell? Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente. È lei il presidente. Bene, allora soggia tutto. Ci facciamo un bel pranzetto? Signore, penso che lei debba apparire in tv e convincere la popolazione che non esistono assolutamente gli UFO. Non mi nervosisca con questo cazzo di spelling! Alieni, signore, che non esistono assolutamente gli UFO. Per me esistono. Come, signore? Un anno fa un UFO si è schiantato nel New Mexico. Potrebbe essere stato recuperato un cadavere. Potrebbe essere? Beh, c'è stato uno spiacevole equivoco. Era il giorno del ringraziamento. E il cadavere è stato mandato giù in cucina. Gli hanno ficcato il ripieno nel culo e ce lo siamo mangiato alla cena di stato. Poi non l'ho più rivisto. No, cancella. Ci hanno fatto dei panini il giorno dopo.